E porto i saluti del Presidente e del Direttore Generale che per precedenti impegni non hanno dovuto assicurare la loro presenza. Io avevo pensato ad un intervento più organico, ma più ascoltavo gli interventi precedenti, anche dei panel precedenti, più mi sono reso conto che forse è più interessante portare degli esempi concreti di quello che l'Istituto ha fatto come importante sia gestore immobiliare, noi partecipiamo a molti fondi immobiliari, abbiamo ancora circa 23.000 immobili di patrimonio a reddito e un patrimonio strumentale costituito da circa 620 sedi per un totale di 1.700.000 metri quadri di cui circa il 56% di proprietà e il resto in locazione. Quindi credo che sia interessante dire in che modo noi approcciamo questo tema della sostenibilità e dell'innovazione e collegandomi anche a quanto è stato da ultimo detto sulla sostenibilità economica. Per l'Istituto il tema della sostenibilità non è né un obbligo né una costruzione ma è proprio una missione che ricalca i valori fondanti dell'Istituto e questo ovviamente abbraccia i temi delle tre gambe di cui si parlava prima, cioè del sociale e del culturale, ma rimanendo nell'ambito più propriamente immobiliare, nel nostro caso specifico devo dire che delle tre sfere che normalmente si considerano quando parliamo di sostenibilità cioè quella economica che investe l'aspetto del metro quadrato addetto, dei costi di servizi e dell'efficientamento energetico. Quindi questa sfera qui, la sfera invece della continuità di servizio è quella di mettere l'utente al centro perché per noi il cittadino deve al primo posto di queste tre sfere c'è il cittadino che deve poter soddisfare le proprie esigenze di servizi in maniera tempestiva, leale, efficace ma insieme, questo al primo posto, per noi c'è la continuità di servizio e la possibilità di fare in modo che i nostri immobili e le nostre sedi rispondano al cambiamento anche del mondo esterno di quello che ci viene chiesto dal legislatore. Faccio dei rapidi esempi, diciamo in piena pandemia quando l'Italia si è fermata l'istituto ha triplicato la propria attività e questo grazie anche a una piattaforma tecnologica all'avanguardia quando il legislatore decide che magari determinate competenze passano all'istituto per esempio da ultimo l'abolizione di determinate commissioni mediche e con passaggio delle competenze all'istituto o quando si decide un click day e da un mese all'altro dobbiamo garantire una prestazione per noi questo significa che c'è gente che lavora, c'è un CED che lavora H24 365 giorni l'anno quindi di queste tre sfere sicuramente noi della sostenibilità, quello diciamo della continuità di servizio di avere l'esigenza dell'utente, del cittadino al centro sono addirittura più importanti di quello della sostenibilità economica perché noi non ci possiamo permettere di dire spengo i server, non ci possiamo dire chiudo le sedi come hanno fatto grandi aziende magari un intervento immobiliare soltanto dieci anni prima hanno realizzato dei grattacieli a un certo punto li hanno liberati tutti a casa e risparmiamo ma nonostante ciò noi abbiamo conseguito grandi obiettivi di risparmio in che modo? questa sostenibilità, come la ricerchiamo? La ricerchiamo non solo con interventi di mautenzione ordinari e straordinari e programmati nel tempo, adesso io sono un ingegnere e mi piacerebbe dilungarmi su tutto ciò che abbiamo fatto in termini di efficientamento e quindi delle innovazioni tecnologiche in ambito impiantistico o semplicemente anche sugli involucri ma invece voglio dire che questo i nostri risultati li conseguiamo soltanto con un approccio olistico dove mettiamo insieme misure gestionali, misure organizzative, misure comportamentali insieme a un piano di digitalizzazione molto spinto che consente di implementare le procedure sia di accesso per il cittadino sia ai dipendenti per poter garantire i servizi, quindi misure gestionali che significa noi abbiamo dei piani di razionalizzazione logistica, dei piani triennali che annualmente aggiorniamo che ci consentono gradualmente di recepire quelle che sono le esigenze e trasformarle poi in una programmazione di quelli che sono gli spazi e le attività che dovremmo recepire a livello organizzativo tutte le nuove forme contrattuali, quindi non solo smart working in senso lato ma abbiamo sperimentato forme di lavoro da remoto diverse, forme di lavoro satellitare che assomigliano molto al lab center di cui si parlava prima per cui il dipendente è astrettamente che ridurre anche l'impatto dove il problema dello smart working, la leva non è la comodità del posto di lavoro ma è abolire lo spostamento casa lavoro può andare a lavorare presso un'altra sede che gli è più prossima, questo anche grazie a una piattaforma digitale, informatizzata, molto spinta. Quello che nel mondo anche lo sasso ne diciamo sono le tre B, abbiamo il BRIC che è il mattone, BITE che è la piattaforma digitale e B di behavior dei comportamenti perché anche su questo sia verso il cittadino sia verso il dipendente siamo molto attenti a mettere il dipendente, il cittadino al centro ma il dipendente anche a sentire come poter rendere un servizio, far tesoro delle esperienze di queste. Tutto questo insieme, adesso qualche numero diciamo, siamo riusciti per esempio a ridurre l'anno scorso di quasi 100.000 metri quadri gli spazi utilizzati e c'eravamo posti un obiettivo di riduzione dei consumi dell'ordine del 6% di standard metro cubo di gas, siamo arrivati ad oltre il 20%, questo con l'insieme di queste misure organizzative, logistiche eccetera, abbiamo ridotto in 4 anni di 10.000 tonnellate le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, quindi numeri certificati che testimoniano che questo sia il percorso giusto, il modo giusto di operare e quindi con questa innovazione che è trasversale su tutti i processi perché è innovazione quella sui contratti pubblici, è innovazione quella quando andiamo a fare degli interventi, è innovazione organizzativa. Però sembrerebbe che è tutto bello, invece non è così, non è così perché quando facciamo delle operazioni di questo tipo, per esempio abbiamo un immobile da 10.000 metri quadri, facciamo una bella operazione di razionalizzazione logistica, scopriamo che ce ne bastano 6.000, utilizziamo un altro nostro immobile e poi ci rimane quest'altro immobile che va sul mercato e noi tutti i giorni l'agenzia dell'entrata nelle perizie di stima che ci vengono date ci dice che il mercato è asfittico, che c'è un'obstolescenza tecnologica e quindi legandoci a quello che ho sentito dire prima, dovrebbe esserci una possibilità di utilizzare questi immobili, di sapere prima se è possibile fare dei cambi di destinazione d'uso, se è possibile poterli valorizzare in un certo modo perché spesso ci troviamo che operazioni di efficientamento sarebbero meritorie e poi dopo qualche anno arriva la Corte dei Conti e ci dice che abbiamo un immobile inutilizzato da 10 anni, ma se il mercato non lo vuole, insomma quindi è questo, così come è chiudo sento anche spesso parlare di semplicità con la quale magari si potrebbe arrivare a dare delle disponibilità che potrebbero derivare dal fatto di ridurre il metro quadro per addetto in maniera così rapida, ovviamente questo noi possiamo innovare quanto vogliamo, però alla base ci sono comunque delle norme che sono molto molto rigide da gestire e quindi abbiamo anche una rigidità di sistema dovuto in questo, faccio un esempio molto banale, chiudo, sono immobile a Piazzale Flaminio, ci sono 250 persone, se io lo voglio portare a 400 e potrei, potrei, allora si pone un problema di prevenzione incendi perché mi cambia classe, le uscite di sicurezza non vanno più bene, c'è un'altra scala di sicurezza, l'impianto di condizionamento non va bene perché in una sala dove c'erano 20 persone ne metto 40, devo aumentare il numero di ricambi orari, non voglio toccare temi di vulnerabilità sismica e di affollamento, quindi ho sentito in altri contesti delle soluzioni semplici e quindi tutto questo per dire cosa? Che noi abbiamo la competenza, abbiamo la fortuna di avere un osservatorio privilegiato perché facciamo tutto, quindi dalla programmazione, appalti, gestione, rendiamo servizi e non è facile trovare un soggetto che inglobi al suo interno tutte queste competenze, però sono sfide complesse, sono sfide globali che richiedono delle soluzioni complesse per le quali appunto occasioni di incontro come queste sicuramente possono portare a un contributo notevole. Grazie. 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 Grazie.